Parco verde al setaccio dei carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna e della tenenza di Caevano. Dal cielo puntato sulla città l'occhio elettronico di un elicottero del nucleo elicotteristi di Ponte Cagnano e in strada a supporto dei militari del reggimento Campania. 154 le persone identificate e 45 i veicoli controllati. Il servizio ha avuto come principale obiettivo quello di colpire il traffico di stupefacenti. Nella rione gli ACP sono state individuate e sequestrate molte telecamere. Una di queste muoveva i suoi fili da un'abitazione di un pregiudicato 27enne trovato anche con una piccola quantità di erba. Per lui è scattata una denuncia penale. Lenti sofisticate che non hanno evitato l'arresto di un incensurato ventunenne nella cui abitazione sono stati ritrovati 540 grammi di marijuana e 57 di hashish. Bilancini di precisione per pesare le dosi, coltelli intrisi di droga e soldi, 250 euro sequestrati perché ritenuti provento illecito e ancora in una palazzina dell'otto B31 rinvenuti due chili e mezzo di marijuana e in una aiuola del rione gli ACP 58 palline di cocaina confezionate e pronte per essere smerciate e 325 grammi di eroina.